Musica Sembra non trovare soluzione il problema dei rifiuti industriali, rottami e inerti, abbandonati nelle zone più disparate del Carso, il polmone verde della provincia, che viene spesso ridotto a una discarica sull'onda dell'inciviltà. La nuova puntuale segnalazione, l'ennesima che si trasforma in un servizio di telequattro, arriva da Daniele Prelatz, consigliere della prima circoscrizione, che convoglia gli allarmi che arrivano dai cittadini su questo tema. Fanno specie in particolare quelle segnalazioni relative a rottami già posti all'attenzione pubblica e rimasti esattamente nello stesso stato, nonostante l'interessamento delle autorità. E il caso della carcassa dell'automobile, che è segnalata a novembre nei pressi della strada provinciale del Carso, nonostante il sopralluogo congiunto con la polizia locale, si trova esattamente nello stesso punto, così come del materiale inerte, sempre nella zona dell'altipiano ovest, ma anche di cemento, misto a pezzi di acciaio, che non sono stati rimossi. L'incuria, peraltro, sembra non conoscere fine ed ecco una nuova segnalazione che investe un'area turistica come quella del campeggio di Pian del Grisa. Sul sentiero di fronte alla struttura, che ospita a Roulotte, tende e un frequentato campo giochi per bambini, sono accatastati una notevole quantità di sacchi, assieme a materiali edilizio, probabilmente mattonelle, che deturbaranno l'area. Ancora una volta a Telequattro, prova a fare da filtro fra cittadini e istituzioni, tentando di trovare una soluzione al problema.